Salve ragazzi, siamo NPK e Emanuele Accurso, players ufficiali del Genoa e tra poco inizierà la E-Serie A. Siamo carichissimi, puntiamo ovviamente al primo posto e cercheremo di dare il meglio. Grazie a tutti. È stata una giornata quasi perfetta e chiusa con una vittoria che ci ha regalato il primo posto e siamo felicissimi, sempre forza Genoa.